Quello che ci aspettiamo purtroppo sarà senz'altro tanta confusione perché nei mesi autunnali avremo sicuramente il virus parainfluenzale, l'influenza, il Covid che girerà ancora, ci saranno molti dubbi su alcune situazioni ma questo è Covid sì, Covid no, tampone negativo però c'è questo e quell'altro. Allora il potere fare circolare il meno possibile il virus influenzale attraverso una vaccinazione correttamente condotta ed eseguita anche in età pediatrica può essere uno strumento che magari possa in qualche modo ridurre questo genere di problema che noi probabilmente dovremo comunque affrontare. Quindi dai sei mesi ai sei anni ci sarà l'indicazione a fare la vaccinazione antinfluenzale proprio per fare in modo che una buona parte di popolazione pediatrica possa essere immune e quindi possa ovviamente essere nelle migliori condizioni per non fare circolare questo virus influenzale.